multigiocatore personalizzato unisciti ok dai dai x x forza che va avanti veloce quindi zeta obscur z z z si poi dipende dai tasti che avete adesso si che ci siamo adesso funziona giusto allora fate fate quello semplice che così vediamo di spiegarvi un po il gioco non lo conosco neanche io però l'ho detto prima si scusa scusa c'è ragione c'è ragione allora è un giro completo è tutto un giro no bisogna andare avanti e bisogna andare avanti tu devi andare avanti no schivando le cose non mi ricordo neanche chi sono io vedi che c'è il power up ah mi devi schivare a queste cose qua quindi si devi stare attento e cercare di andare avanti no ok come che canzella che sono c'è il tasto per la super velocità che la ricarichi la ricarichi con con quel coso blu che sembra una barretta che trovi in giro no no sono morto no 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 pronti ma come si fa a tirare il turbo allora il turbo sul mio è il grilletto destro sotto il mio mio invece si è fermato per fare non so bene cosa missili missili non mi ha chiudato mi ha chiudato corri sacco quant'è brutto il tuo personaggio fa veramente cacare i tuoi personaggi io gli lascio giù le scatole poi gli lascio giù le scatole salta salto sempre nel dubbio salto no questo è un po' difficile no no ho caduto dai 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 a tutti e due mi ciulo adesso guarda questo è scatole di merda non ho capito come faccio all'attivare il turbo davvero allora allora il turbo si carica andando sopra quei rettangolini blu ok e si carica nella barretta che hai sotto il tuo personaggio e lo attivi con il grilletto destro quello sotto ah ecco bene ok riproviamo questo dov'è obscur dov'è obscur sono qua sono qua sono qua come sei qua chi è che manca chi è che manca obscur eh obscur ah sta arrivando ci ha messo un po' mentre con il cerchio lanci i power up no? ma non vedo obscur qua in questa gara eh ma sono morto sono morto ah sei già morto eh perchè si è iniziato un po' dopo e l'avete subito eliminato ah ci ha messo tanto a entrare quindi ti ha seccato guarda che forse entri adesso si guarda che sei dentro eccomi 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 guarda la parte lì si va gli ghiacchi iuuu 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 con il cerchio usi il power up bellissimo perchè non giovi faccio il gioco ahia e quello è uno dei power up che trovi in giro no? nooo le le palline azzurre servono a recuperare il power up quelle che vedi? ah quelle che io non ho preso ma il rampino a cosa servirà mai? per andare più veloce per arrampicarti vedi? ahhh vai salta fammi vedere chi sei siii no 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 aiuto 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 ahhh 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 ci siete come concetto? ne facciamo un'altra qua? sii facciamo un'altra ma io sono ci sono come concetto ma sono completamente incapace fa niente fa niente il primo il primo ah ma c'è anche il workshop eh? si si c'è anche il workshop ma pensa te ma che bei personaggi proprio belli belli pronti via cazzo altro che il game design di overwatch con il triangolo? con il triangolo con il triangolo per me è triangolo per te sempre dovrebbe essere la Y e fai le scivolate non so sono morto non posso più provare vabbè poi lo farai io spero solo di guadagnare tante belle carte collezionabili per poi venderle cazzo 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 no 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 il solito cazzo di di magnaccio Succa Ma come faccio a essere morto Succa No Vai Sono un missile Morto Questa roba bastardo Vi ho congelati E' stupendo sto gioco Salta salta Ci vuole un attimino a capirlo Ma poi diventa bello Poi diventa interessante Dopo quanti giorni Dopo un paio d'ore Ah bene Mi piace come tirare i missili Io Sì No